Siamo qui per questo e soprattutto per domani che domani è un giorno molto importante, liquidate, in felice città ci saranno i voti per votare Casa Pound quando vedete il logo di Casa Pound tutti voi conoscete ormai il mio movimento che mi state sostenendo e mi state ancora sostenendo votate per Casa Pound perché è un'alternativa una cosa, una novità, vi cambierà la vita Sì, l'invito di Nina dalla nostra frincea che come appunto diceva compie 6 anni è un invito da seguire, cioè avere il coraggio di cambiare e con Casa Pound questo è garantito Assolutamente sì, perché come in passato si è stato dimostrato più di una volta, mille volte che PD prometteva e non ha mai fatto niente anzi ha derubato questo paese 5 stelle non parliamo neanche sono più ridicoli che, guarda, rimaniamo qui Salvini, ma di cosa stiamo parlando? uno che è termine, lui propone solo l'odio volete l'odio o volete di nuovo amare questo paese? Casa Pound vi sta offrendo amore amore e rispetto informatevi, prima di votare informatevi, guardate cosa farà proposta cosa, magari troverete anche risposte alle vostre domande risposte giuste, non quelle fasule che vi hanno consegnato e ricordatevi, media, maggior parte delle volte fa vedere cose non veritiere perciò prima di giudicare balsiasi cosa informatevi su tutti i partiti, su tutte le cose non solo su di noi, su tutti e decidete voi con la vostra testa, il vostro cuore non con quello che vi hanno consegnato gli altri ringraziamo Mina per questo appello elettorale e per la sua presenza al compleanno dei 6 anni di Rocca Bruna domani come diceva Nina come diceva il nostro responsabile Massimo Trofiletti avrete l'occasione in 13 città d'Italia di cambiare la vostra città e di contribuire al cambiamento della nazione Casa Pound è l'unico movimento nazionale a difesa degli italiani in un'azione in cui il governo e diverse istituzioni sono impegnate ad aiutare gli immigrati e a farci invadere comunque da chi viene da paesi stranieri è rimasto l'unico movimento nazionale a difesa degli italiani che difende gli italiani a costo anche di sacrificare la propria libertà come è successo al nostro vicepresidente Simone Di Stefano quindi vi ringraziamo Nina per questo appello e domani vi chiediamo di fare la cosa giusta e di scegliere Casa Pound nelle 13 città italiane dove Casa Pound è presente con il proprio simbolo e con i propri candidati simbaci la cosa importante che diceva Nina è quella proprio secondo me di documentarsi e andare a leggere i programmi di tutti i movimenti e tutti i partiti presenti in modo che non vi lasciate influenzare da quello che vi hanno proposto a scuola da quello che vi suggeriscono genitori, famiglie e andate a votare con la vostra testa tutti voi con il vostro cuore perché solo il vostro cuore sa con il cuore perciò votate con il cuore e informateli grazie a tutti ciao ragazzi ciao e adesso divertitevi adesso divertitevi ooooh questi tutti vogliamo ooooh non siamo solo noi ooooh vai tutti un'ora ragazzi potete urlare adesso ooooh e adesso è l'ora e adesso ieri mazzo stoppa l'ora